siamo con matteo convalle di brooks ma qui vocifera che si vocifera per lo meno in giro che si possono utilizzare le scarpe andare a correre poi riportarle qui è vera questa cosa è verissima perché diamo l'opportunità a tutti voi di testare le nostre scarpe gratuitamente anche in gara benissimo allora qui c'è in realtà il metodo non è che sia il massimo però con queste scarpe non serve il cambio gomme box no esattamente nonostante questo tempo non ci stia sorridendo no e potete provare lo stesso e non serve il cambio gomme perfetto grazie mille allora su radiofmo 1 a te Matteo grazie a tutti